unità 3 zakir ieri sera dopo cena mi sono steso sul divano davanti alla tv all'improvviso ho sentito una fitta al petto mi sono alzato la testa iniziato a girare e ho sentito un forte dolore al braccio sinistro fino alle dita mi sono preoccupato e ho chiamato il mio medico ma non ha risposto allora ho chiamato la guardia medica una dottoressa mi ha consigliato di andare subito al pronto soccorso mi sono spaventato molto appena arrivato all'ospedale ho parlato con l'infermiere mi ha chiesto la tessera sanitaria e mi ha registrato mi ha dato il codice bianco quello per i casi meno gravi e mi ha detto di aspettare in sala d'attesa quando ho visto tanta gente in fila mi sono innervosito ma non potevo fare altro